Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un'altra parte di Yoshi Wally World. In questa parte andiamo a fare il livello 5 del mondo 1. Non vado a salvare 10 vulcano. Quindi, entra per il tempo cominciamo questo livello. Ah, le ponte piranha. Ah, me le mangio. Ok, perfetto, avevo un bel po' di fame. Andiamo là, andiamo a mettere quella corinetta. Ah, via! Oh, bomba! Ok, secondo il mio istinto da cercare di gomitoli, qua ci dovrebbe essere proprio uno. Andiamo a cercare un po'. Un tipo timido. Allora, cerchiamo attentamente. Oh, qua dietro, come sapete, c'era un bel gomitolo, che è di colore nero. E cogliamolo. Ok, andiamo avanti. Ok. Oh, ho una pianta piranha sotterranea. Pum, ho sentito le sue palle. Ok, ho scoperto anche questa nemica. Andiamo avanti. Eh. Ho un cucinello. Ok, continuo. Andiamo qua sopra. Allora. Chi sapete c'è un altro gomitolo, che è di colore bianco. Corriamo pure questo. Perfetto. Ci manca già l'ultimo gomitolo, che credo su, che credo con il mio istinto che ci avrà un mini boss. Continuiamo. Nya. Un cupo. Ok, andiamo giù di questa montagna. E c'è un tipo timido. Ok, andiamo ancora. E c'è un mini boss. Andiamo ancora con il bucicolo avrà l'ultimo gomitolo, che è quell'arancione. Accendiamo attentamente. Ecco qua. Ehi, sì. Ho il mio gomitolo, eh? Per formare il scivolcano, eh? Si, allora perché sono morto per questo? Per farlo per cacchiera con te? Ah, dove immaginarlo? Quindi all'attacco diventa invisibile. Oh no, l'ho finito! Ah, mi sento poco che scassi tu. Ah! Ah, io ho una lava! Ehi, è cascata in pieno. Ah, ehi. Ehi, è cascata in pieno. Ehi, è cascata in pieno. Beccati il testo! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Mi ho toccato nella lava! Ma ancora non mi cadere tre volte! Ah! Uh! Ah! 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 Prendi il gomitolo! Treni il gomitolo, oh! Ah! Ah! Cacchiera! Sì, certo. Yoshi Vulcano, vieni a me. Dei componenti nella tua forma normale. Mario, sicuramente sono libero. Grazie Yoshi, in cui con me ci stiamo sudando. Pezzo ancora, mettono a casa. Ciao. Yuhu, abbiamo salvato anche Yoshi Vulcano. E ci vediamo in un'altra parte di Yoshi Wally World. Quindi alla prossima, ciao.